Angela Giacomini è l'artista che ha portato a termine questa bellissima rappresentazione del presepe. Che cosa l'ha spinta a compiere quest'opera? Allora, perché il Natale è una cosa bellissima che annuncia la nascita di Gesù e così ho pensato di realizzare questo presepe tutto all'uncinetto per dare un significato in più, diciamo. Quanto tempo ci ha impiegato? Allora, da quest'estate ho cominciato sempre a fare qualcosina, poi dopo il mese di novembre è stato quello più lavorativo di più. Sono stati rappresentati quattro episodi importanti della nascita di Gesù, ci puoi spiegare il percorso? Sì, allora, prima di tutto c'è l'annunciazione che annuncia l'angelo Gabriele a Maria. Poi c'è la visita della cugina che Maria va a visitare la cugina Elisabetta che anche lei è incinta e dopo arriva il Betlemme con il censimento e c'è Giuseppe e Maria che non trovano posto nell'albergo e vanno in una capanna e così, e lì nasce Gesù Bambino. Un'opera che abbellisce e che trasmette tanti valori. Ovviamente, come sappiamo, ogni presepe trasmette oltre a un messaggio religioso ma anche a una realtà culturale perché si tratta di una realtà che noi ereditiamo da San Francesco, già dal Medioevo. Quindi una realtà come questa ci aiuta a pregare perché è una realtà anche di evangelizzazione. Quindi attraverso il mistero di Dio che si fa uno di noi è una realtà che necessita di segni e di luci. Ecco perché noi realizziamo questo presepio che poi parla di questo grande mistero di Dio che si fa uno di noi, Dio che viene per divinizzare l'uomo.